Mazzola Valdarbia, ospite delle Firenze Ovest, al Giuseppe Paolo di Firenze, partita che mette in palio punti importanti soprattutto per la squadra di casa in ottica salvezza. Bianco Celesti che si fanno vedere al quindicesimo di una partita molto bloccata, Bartolini allarga bene, la palla spiove sui piedi di Gianneschi che si porta il pallone sul sinistro, calcio, una deviazione, mette la palla alta sopra la traversa e dunque in calcio d'angolo sul successivo corner battuto da Cavallini, arriva Fabbrini con la testa in arretramento, palla che termina sul fondo con Daddi che controlla bene la sfera che esce, Firenze Ovest si vede poco dopo con questa conclusione piuttosto velleitaria di Ussia, palla che termina abbondantemente a lato, tiro ciabattato da parte del terzino, Firenze Ovest che si rende pericoloso ancora da calcio piazzato su corner, la palla arriva sul secondo pallo dove Ciofi non riesce a indirizzare con il mancino verso la porta, complice anche un giocatore del Mazzola Valdarbi è andato a vuoto, ancora da calcio di punizione, questa volta è Rossi di impegnare Florindi che mette in angolo e proprio sul successivo calcio d'angolo arriva il vantaggio delle Firenze Ovest, un batte ribatte in area di rigore con una serie di rimpalli che favoriscono alla fine Bartolozzi che con la punta del piede destro mette in porta, batte Florindi per il vantaggio dei locali al minuto 41, all'inizio del secondo tempo il Firenze Ovest troverebbe anche il gol del 2-0 ma quando la palla entra in porta la bandierina dell'assistente era già alzata da diverso tempo dunque non si può parlare di gol annullato, il Mazzola Valdarbi al sessantesimo perviene al pareggio, calcio di punizione di Cruciani, bianche sul secondo palo in porta, Daddi non è perfetto nella respinta e Bartolini il graffio del Condor è il primo gol in maglia bianco celeste di Davide Bartolini che dunque rimette tutte le cose a posto, è 1-1 allora esatta di gioco per il Mazzola Valdarbi che aveva iniziato comunque meglio rispetto all'avversario il secondo tempo, entra anche Pierangioli che si vede con questo destro da fuori aria smorzato, Daddi blocca senza problemi, ancora Mazzola Valdarbi guardate che cosa combina Daddi qua, Cruciani salta tutti, destro a giro indirizzato all'incrocio dei pali, Daddi con la mano di richiamo mette in calcio d'angolo, il Firenze Ovest si vede davanti con questa uscita, palla ai piedi di Rossi, vince anche lui qualche rimpallo, poi mette al centro dove arriva Pecchioli Tommaso che però non riesce ad indirizzare la palla in porta, al minuto 92 ingenuità di Zefi, era stato veramente uno dei giocatori migliori del Firenze Ovest fino a quel momento, si becca il Rosso per una manata a gioco ferma ai danni di Silvestri, il Mazzola Valdarbi si riversa in amanti, c'è anche questo episodio dubbio al terzo minuto di recupero con Bartolini che viene spinto per il direttore di gara, non ci sono però gli estremi per assegnare la massima punizione, è l'ultima emozione di un finale concitato in cui viene espulso anche l'allenatore del Firenze Ovest Angelini per una serie di proteste, il Mazzola Valdarbi che continua nella striscia di risultati positivi. Adesso a quota 6.